buona giornata amici da massimo foghetti oggi è martedì 2 agosto 2022 siamo pronti per la rosegna stampa del giorno guarderemo insieme i giornali con cronaca locale il resto del carlino ed il corriere adriatico passiamo subito a vedere nell'almanacco il santo del giorno e vediamo che oggi si festeggia un aspetto particolare della madonna ovvero santa maria degli angeli a cui è stata intitolata la chiesa che sorge sulla piana di assisi fondata da san francesco attorno alla porziuncola la piccola chiesa realizzata con le sue mani ma oggi è anche la festa del perdono di assisi un'indulgenza che è stata impetrata dallo stesso san francesco nei confronti della madonna e che può essere applicata ai se stessi oppure ai defunti ebbene cosa si può fare per avere l'indulgenza del perdono di assisi è una indulgenza plenaria quindi per i fedeli cattolici molto importante bisogna visitare tra il mezzogiorno di ieri e la mezzanotte di oggi una chiesa francescana ovviamente se è possibile andare a santa maria degli angeli è l'ottimo ma basta anche andare a fano per esempio a santa maria nuova oppure a san paterniano dove una è gestita dai capucini l'altra dai frati minori e poi occorre recitare il padre nostro e il credo per riaffermare la propria adesione alla chiesa e dire tre preghiere per il papa un padre nostro un ave maria e un gloria padri e poi bisogna confessarsi e comunicarsi entro otto giorni entro otto giorni prima oppure entro otto giorni dopo e quindi si ottiene l'indulgenza plenaria ebbene è un risultato importante perché ottenere il perdono totale dei peccati che sono commessi ovviamente per un cristiano è essenziale vediamo anche le previsioni del tempo ebbene il tempo è sempre quello e tempo è stabile tra sole e qualche nube di passaggio ci sono anche temporali diurni sulla pennino romagnolo ma non su quello marchigiano venti da nord est e temperature massime entro i 33 35 gradi è sempre che questa siccità non ci voglia abbandonare insomma sta creando diversi problemi ogni tanto lo vediamo sulle pagine delle cronache dei giornali dove i raccolti dove appunto l'agricoltura sta soffrendo in maniera importante e con gravi effetti poi per quanto riguarda il caro vita le eventi ispireranno con una tensione media da nord ovest sulle corte mentre da est sull'entroterra le temperature dicono le previsioni sono sempre in calo ma per lo insomma sono sempre quelle quindi non c'è che da variare ed ora apriamo il giornale passiamo subito al corriere adriatico sulla pagina di fano e vediamo che il titolo è dedicato alla viabilità ztl col brodo pronti 250 mila euro per avere le telecamere agli eccessi è una anticipazione che ha fatto l'assessore alla viabilità fabio lattonelli avventurarsi nelle zone a traffico limitato non è propriamente un'impresa lo fanno in molti anche se non hanno i permessi con il rischio di beccarsi una multa e non sono poche le multe che sono state fatte per coloro che sono entrati senza avere il permesso nelle ztl spesso specie nelle zone più marginali del perimetro urbano in cui è più raro imbattersi negli agenti della polizia municipale ma attenzione perché anche lì i vigili saranno più presenti a volte c'è l'impressione che quasi non si faccia più caso al fatto che la strada dove si transita sia riservata al traffico e alla sosta dei soli residenti e c'è dunque una abitudine inveterata di trasgredire e insomma di tentare la sorte qualche volta ci si azzecca qualche volta si rimane puniti ebbene a questo punto c'è un giro di vite si tratta di un'operazione che è stata finanziata nel piano triennale delle opere pubbliche con un importo di 250 mila euro per l'acquisto delle telecamere già in autunno dovremo disporre del progetto ha detto lattonelli a quel punto l'unica possibilità riguarderà l'estensione della fibra fino ai punti in cui verranno piazzate le telecamere ecco perché serve questi servono questi finanziamenti servono questi soldi e al momento l'assessore non ha detto dove saranno piazzate queste telecamere ma è ovvio pensarlo che saranno sistemate negli accessi più importanti quelli più frequentati si tratta di garantire ha dichiarato una più piena fruizione del centro storico a pedoni e ciclisti ma anche di tutelare i diritti dei residenti che pagano per transitare e sostare in quell'area e giustamente non tollerano che chi non ha titolo possa usurpare quegli stessi spazi e beh questo è un po' l'andazzo della viabilità del centro storico fanese un articolo di fondo pagina l'udc apre alla clinica di ortopedia alle terme abbiamo visto come nei giorni scorsi il consiglio comunale di fano si è dichiarato quasi alla unanimità perché la regione attribuisca quei 50 posti che erano previsti e la clinica privata di chiaruccia al santa croce ma c'è anche chi dice che è possibile che quei 50 posti possono attribuiti alla clinica privata che fa parte del progetto delle terme di carignano e questi sono proprio del vecchio che è il responsabile provinciale dell'udc e pollegioni che il responsabile fanese appunto del partito giriamo pagina e vediamo un problema di stagione vespe calabroni nidi a rischio attenzione alle reazioni di difesa vigili del fuoco sempre più chiamati a numerosi interventi per liberare le abitazioni e le vespe i calabroni fanno sempre più il nido nei cassettoni delle finestre sono questi luoghi privilegiati dagli insetti e questo suscita diverse allarmi perché poi i residenti sono un po così imbarazzati da come intervenire se devono chiamare un apicoltore se devono chiamare le forze dell'ordine ebbene quando un quando un nido di vespe si forma all'interno di cassettone questo viene considerato un pericolo per l'incolumità della gente e sono autorizzati ad intervenire i vigili del fuoco i quali hanno tutti i mezzi per liberare appunto l'abitazione da questa incomoda presenza vespe calabroni prediligono costruire i loro favi nei cassettoni delle serrande nei comignoli quando lo fanno si considera che si crea un pericolo immediato per le persone e quindi intervengono i vigili e poi non possiamo non parlare della bella inaugurazione che si è svolta ieri sera alla darsena borghese di fano un spettacolo veramente eccezionale una ballerina un acrobata ha sorvolato il porto canale appesa a circa 300 palloncini di grandi dimensioni e lì ha fatto delle evoluzioni delle capriole con uno scenario veramente molto molto suggestivo grazie alla illuminazione grazie alle rovine stesse presenti dal 1600 in quel luogo bello spettacolo per l'agoniato taglio del nastro del primo stralcio della ristrutturazione della passeggiata che a cui è stato dato il nome di passeggiata romantica un cammino che potrà unire centro storico porto al momento arriva fino alla ferrovia ma poi proseguirà con successivi stralci grazie all'ampliamento del sottopassaggio di via Nazario Sauro e al proseguimento del cammino fino al faro che collegherà dicevo il centro storico al porto quindi un itinerario ancora più bello ancora più interessante da da perseguire da transitare una passeggiata romantica non poteva che essere inaugurata con uno spettacolo di grande suggestione dice oggi il corriere adriatico come quello rappresentato ieri da molecole show tanto da evocare un sogno che figura nella fantasia dei bambini quello di volare appesi a dei palloncini ebbene il taglio del nastro lo vediamo qui in questa fotografia è stato fatto dal sindaco massimo seri non dobbiamo dimenticare comunque l'apporto dell'assessore dell'assessore che dell'assessora anzi barbara brunori che ha seguito i lavori sono stati poi lavori travagliati sappiamo come il progetto ha subito un fermo dei lavori per circa un anno a causa della morte del titolare della ditta che li stava eseguendo ma alla fine siamo arrivati dunque alla inaugurazione e da oggi in poi la passeggiata potrà essere a disposizione di tutti i fanesi e anche di tutti i turisti e passiamo a fossombrone l'azienda ha parlato di altro il nostro è un progetto ignorato parla così l'ex sindaco di fossombrone bonci che parla del laboratorio di analisi ma soprattutto parla di un laboratorio particolare quello di tossicologia ebbene l'asur che ha spiegato le sue decisioni il laboratorio di analisi e appeso in questo momento ma doveva essere trasferito a fossombrone in modo particolare quello di tossicologia perché nel disegno appunto dell'ex sindaco bonci questo doveva essere un tutt'uno che poteva servire in modo particolare anche l'entroterra doveva riunire anche il laboratorio delle acque di dialisi che attualmente è ad urbana e poi torniamo a fano per vedere questa notizia di cronaca ascisce per la movida segnalati otto ragazzi e l'assunto ma ci sono anche altri interventi che hanno compiuto i carabinieri che appartengono alla compagnia di fano i controlli dei carabinieri si sono intensificati in questa estate e scattano anche tre arresti otto giovani nei guai e segnalati alla prefettura per assunzione di ascis nei pressi dei locali pubblici questo un po è già un risultato importante uno sforzo di uturno quello profuso dai carabinieri della compagnia di fano durante il periodo estivo mediante servizi sono straordinari sono superiori a quelli appunto che si fanno abitualmente servizi straordinari di controllo del territorio organizzati in ambito provinciale quindi una sfera d'azione molto ampia per quanto riguarda i carabinieri i carabinieri di fano di marotta e di san lorenzo in campo i quali hanno segnalato alla prefettura appunto questi otto giovani compresi minori dell'età tra i 16 e i 26 anni per uso personale di ascis e poi carabinieri della stazione di terre roveresche hanno arrestato due persone del posto per reati di furto e detenzione di stupefacenti commessi tempo addietro nel centro urbano uno è finito in carcere l'altro agli arresti domiciliari e poi ci sono anche altre operazioni che hanno compiuto le forze dell'ordine andiamo alla val cesano dove a monteporzio si è sviluppato un incendio molto pericoloso paura per le fiamme di 4 metri di altezza e fumo case minacciate evacuate tre persone un incendio a monteporzio lungo la cesanense bruciati 20 ettari di campi con stoppie e vegetazione ebbene un intervento particolarmente difficoltoso da parte dei vigili del fuoco i quali tuttavia sono riusciti a limitare i danni è accaduto a metà pomeriggio di ieri intorno alle 16 e 30 poco fuori del centro abitato le fiamme si sono propagate in un appunto area piuttosto estesa di 15 20 ettari e veniamo anche la pagina di senigallia dove si parla del summer jambori motore dell'economia un evento che mette in moto tanti settori dell'economia quelli del commercio quelli del turismo insomma ci sono diverse diverse possibilità che rendono questa questo evento che ormai è conosciuto in tutta italia a favore e in termini economici in termini concreti proprio per la popolazione per i residenti di senigallia veniamo anche qualche notizia sulla pagina regionale dove si parla di fermo pesca si parla di fermo pesca perché da sabato scorso all 11 settembre le barche che praticano la pesca strascico saranno ferme in porto potranno navigare quelli della volante la piccola pesca e l'evongolare ma questo crea dei disagi delle carenze per quanto riguarda il mercato proprio nel mese di agosto quando più alta è l'affluenza dei turisti sappiamo come l'enogastronomia sia una fonte di attrazione importante per il turismo ma se poi un turista arriva in riviera chiede in un ristorante un piatto di pesce e le vengono servite delle cozze del bangladesh oppure del pesce che arriva dal perù non è proprio l'ottimo per la valorizzazione del prodotto locale purtroppo così è le importazioni sono cresciute dell'80 per cento lo hanno dichiarato proprio i pescatori fanesi un 20 per cento rimane il prodotto locale adriatico un mese di stop al pesce fresco poi l'incognita della ripresa perché il fermo pesca si è sommato un po a tutti i problemi che ancora oggi esistono per le barche per la flottiglia peschereccia e veniamo alla inaugurazione alla una pre inaugurazione del museo oliveriano di pesaro l'oliveriano tutto nuovo premiata la lunga attesa e da oggi le prime visite sono visite che verranno riservate d'ora in avanti fino al mese di settembre agli studenti di pesaro inaugurazioni ufficiali in autunno ma le scuole potranno già vedere l'allestimento ebbene il museo di pesaro merita senz'altro di essere visitato abbiamo i reperti della necropoli di novilara quello del lucus pisare pisare pisarensi se abbiamo altri reperti soprattutto quelli ritrovati nel settecento insomma e poi abate degli olivieri e che ha istituito questa istituzione così importante ha portato lì ha trovato molti reperti interessanti mille anni di storia del territorio dal periodo piceno alla tarda età imperiale che si articola poi in quattro sezioni espositive vere e proprie chiavi di narrazione dell'intero corpus delle collezioni che ha radunato appunto il museo oliveriano commissione ultimo step poi il rossini potrà riaprire quest'anno il roff potrà avere dalla sua parte il teatro rossini di pesaro il teatro appunto accoglierà il roff la sala della repubblica pronta per l'autunno l'attesa è finita si aspetta solo l'esito della commissione tecnica di oggi una pura formalità per appunto riaprire il teatro sfida a quattro per il quartiere capitale si impone tombaccia e durerà un anno capoluogo della cultura pesaro un progetto vincitore del bando rimarrà in carica da oggi fino a luglio del 2023 si tratta del progetto quartiere municipio capoluogo della cultura che ha il suo terzo vincitore ed è il q9 ovvero soria tombaccia il quartiere proclamato capoluogo della cultura edizione agosto 2022 giugno 2023 con il progetto note di quartiere tra le novità di questo progetto di questo terzo bando che è stato emesso dal comune il comune lo sapete nell'ambito della della capitale della cultura nazionale ha emesso dei bandi per rivitalizzare per far concorrere diversi quartieri ebbene tra le novità di questo terzo bando c'è la durata del riconoscimento che si allunga dai sei mesi ai 12 per l'erogazione di un contributo di 15 mila euro al vincitore e non più di 10 mila quindi la somma è stata aumentata ed ora parliamo della contessa la strada che molti fanesi percorrono per giungere a roma per esempio perché collega la nostra provincia a gubbio ebbene la contessa è una strada fondamentale non possiamo restare ostaggio dei lavori hanno detto i sindaci del territorio che da fano si dilunga fino a cantiano una strada che dovrà essere chiusa per quattro mesi per fare dei lavori dei lavori importanti si spera che non durino di più questi lavori perché altrimenti ne soffrirà non solo il turismo ma tutta l'economia provinciale vediamo qui il patto tra i sindaci per la via per la viabilità della contessa e vediamo come il sindaco di fano massimo seri è stato rappresentato dall'assessore etienne lucarelli vediamo un attimo si tratta di realizzare un doppio intervento strutturale sul viadotto sul lato gubbio e sulla galleria lato cantiano in ambidue sensi di marcia che coinvolge la strada anas umbria 15 milioni di euro e prevede una viabilità alternativa i mezzi pesanti saranno dirottati sulla flaminia tramite la strada che da cantiano sale verso la scheggia pensate con tutti i tornanti per i mezzi più leggeri il comune di gubbio sta ripristinando tre chilometri e mezzo della vecchia e tortuosa strada comunale a valle insomma c'è una viabilità alternativa ma certo non è agevole e poi parliamo di elezioni parliamo di elezioni perché il pd ha definito la rosa dei papabili con la new entry del sindaco caverni si tratta del sindaco caverni sindaco di serra santabondio caverni affiancherà lamorani biancani vimini fulvi e pedinelli come candidato ai vertici nazionali spetterà l'ultima parola questa è la proposta appunto del pd provinciale di pesaro il pd provinciale ha definito la rosa dei possibili candidati alle politiche del 25 settembre l'elenco dei nominativi insieme con il verbale della direzione provinciale è stato inoltrato ieri al commissario regionale alberto losacco e al vertici nazionali del partito insomma ripeto morani biancani vimini fulvi e pedinelli come candidati giriamo ancora la pagina e vediamo la pagina di urbino il manifesto dei giovani urbinati per far rientrare i cervelli in fuga è una provocatoria proposta questa del consigliere cangini che lancia anche un patto tra le generazioni o nel manifesto dei giovani urbinati una città come urbino non può non considerare al centro del suo progetto di sviluppo i giovani ebbene si tratta soprattutto di creare eventi nel periodo estivo per coinvolgerli e poi anche la della possibilità di usufruire di un luogo come la fortezza albornoz che si presta bene per l'organizzazione di appuntamenti culturali è necessario combattere le spinte centrifughe ha detto cangini che portano i giovani a emigrare dalla città ducale e attraverso politiche di attrazione delle competenze far sì che i giovani laureati costruiscano il loro futuro nel nostro territorio diamo un'occhiata anche al resto del carlino vediamo l'apertura dedicata al nuovo cantiere che dovrebbe solgere che solgerà nel porto di fano il cantiere della wider lavori al via dopo ferragosto ordini pronti non si può aspettare lo ha dichiarato l'amministratore delegato fabio fraternali per quanto riguarda la realizzazione di questo cantiere dove appunto qui si vede un rendering wider pronta a iniziare i lavori di costruzione appunto di questo importante struttura subito dopo ferragosto abbiamo le commesse ha detto fraternali il primo catamarano sarà lungo 28 metri largo 12 non possiamo aspettare ci sono già gli ordini dei clienti quindi una ditta che ha tutti i mezzi e tutte le necessità per procedere in fretta e anche il resto del carlino si occupa della clinica privata di carignano ortopedia carignano la città è divisa plauso di cof commercio l'udc a bozza in comune via i privati qui vediamo ancora una volta a carla luzzi che ribadisce la posizione di in comune contraria all'iniziativa privata tutti i servizi sanitari secondo appunto la capogruppo consigliare dove dovrebbero essere incentrati nel santa croce perché la sanità è un bene di tutti e non può essere parcellizzata movimento 5 stelle anche cattòi tra gli zombie di grillo ovvero quelli che grillo ha definito zombie quelli che ci sono distaccati da 5 stelle ebbene il deputato maurizio cattòi eletto nel collegio di fano lascia il movimento 5 stelle e dell'altro ieri l'annuncio a sorpresa dell'abbandono al movimento e finisce nell'albo appunto degli zombie pubblicato ieri da beppe grillo sul suo profilo facebook con la scritta da oggi in tutte le edicole ebbene il parlamentare dice di non volersi ricandidare ci tiene a far sapere che la sua uscita dal movimento dopo la comunicazione al presidente conte è stata annunciata nella giornata di sabato all'assemblea degli iscritti delle marche rimangono invece fedeli a grillo e a conte la senatrice rossella coto che è anche sottosegretaria al lavoro e il deputato roberto rossini entrambi al primo mandato ma che non si sono sbilanciati ancora per le loro ricandidature vediamo anche sul carlino le fiamme che si sono elevate a monteporzio a due passi dalle case famiglie in fuga paura a monteporzio per un vasto incendio e poi a fondo pagina la notizia delle delle azioni delle imprese dei carabinieri e nei confronti soprattutto dello spaccio della droga e di altri reati ancora sulla pagina di urbino festa dell'unità al gusto delle chiacchiere al via la kermesse del partito democratico università e sanità i temi al centro dei dibattiti ed è previsto anche un omaggio a david sassoli che nel nostro territorio è stato presente prima delle elezioni al parlamento europeo e domani ci sarà un'intervista al rettore calcagnini una scuola di futuro in ricordo dell'ex presidente della provincia tagliolini scomparso prematuramente pensata la valorizzazione dell'entroterra dedicata allo scomparso presidente della provincia già più di cento le candidature e poi si parla anche sul carlino della contessa chiusa da ottobre viabilità ferma al 1970 insomma ancora se non si apre la guinza saremo costretti a fare questo giro vizioso per umbertide oppure ancora per valfabbrica che arriva direttamente da gubbio a perugia vediamo anche qualche articolo sulla pagina pesarese del resto del carlino centro stop ai sacchetti dei rifiuti in strada da ottobre i primi cassonetti intelligenti verranno istituiti nel quadrilatero nel quadrante delimitato dalla ztl delle vie san francesco e via branca i presidenti saranno muniti di tessere con le quali potranno depositare i loro rifiuti appunto nei cestini un modo più comodo appunto per prelevarli e poi parliamo ancora di paglio paglio adrenalina blackout poi gioia pura ancora un'intera pagina dedicata alla vittoria di villa fastigi e con questa notizia passiamo allo sport la visse ha scelto fedato un contratto annuale definito l'ingaggio dell'esterno sinistro in uscita dal gubbio mentre per il fano calcio si pensa alla difesa c'è l'ipotesi di bonacchi mister mosconi potrebbe chiamare da tolentino anche il centrale di fiducia e con questa notizia termina la nostra rassegna stampa vi do l'appuntamento per le notizie del giorno alle ore 20 30 di questa serie in occhio le notizie e domani per sapere le notizie pubblicate dai giornali alle 7 del mattino grazie per l'ascolto a risentirci